Sì, c'è il piano. Vai. Tranquilli. Tranquilli, adesso vi aiutiamo noi. Siamo qui per questo. Ora vi portiamo via da qui, ok? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ma cazzo! L'ho visto bene. Non l'avevo mai visto, io non sapevo... Mi hai quasi portato via la faccia. Cerchiamo di non sparare ai buoni. Oddio. L'ha marchiato. L'ha marchiato. L'ha marchiato. L'ha marchiato. C'è un'inchiesta per quello che è successo. Dicono che... Non mi importa davvero, non importa cosa dicono. La donna che amo ha rischiato di morire. Pensa a cosa poteva succedere. Pensa a quello che è successo. Io non ho ucciso quegli uomini, se è questo che pensano, se vuoi dire questo. No, io sto solo dicendo che voglio capire cos'è successo veramente. Ti ringrazio per avermi salvato la vita. Dico solo che c'è un prezzo da pagare. E non so se sia possibile. Che cosa? Che tu a me me sia te stesso. Clare, che fai? Clare, si allaga tutto l'appartamento. C'è un prezzo. Ancora il lavoro. Con la vecchiaia diventi lento, Alfred. Arriva per tutti, signor Wayne. Perfino lei è troppo vecchio per morire giovane. E non che non ci abbia provato. Fango Fosso Battipagni, Fango Fosso Battipagni, Fango Fosso Battipagni, Fango Fosso. Fa affari in tutto il mondo, ma la sua base è nel porto di Gotham. Traffico d'armi e di esseri umani. Quindi il portoghese bianco è un russo, questa è la teoria. No. La teoria è che sarà il russo a portarmi da quell'uomo. Sempre che sia davvero un uomo. Non sa neanche se esiste. Potrebbe essere un fantasma. Che vuole portare una bomba sporca a Gotham? Ah, la posta è alta. Nuove regole? Siamo criminali, Alfred. Lo siamo sempre stati, non è cambiato niente. Sì, invece, signore. È cambiato tutto.